un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni rotondo ci troviamo nella sacrestia sacrestia della chiesetta di santa maria delle grazie questo luogo era un luogo che vedeva padre più impegnato durante il corso della giornata per le confessioni come vedrete attraverso dei filmati qui c'erano delle tende che permettevano quindi padre pio di poter confessare tutti gli uomini che erano qui in attesa mentre le donne venivano confessate in chiesetta noi siamo qui perché vogliamo raccontarvi attraverso questo libro di padre eusebio notte da castelpetroso che è stato assistente di padre pio per diversi anni negli anni sessanta che ha raccolto tante testimonianze tanti aneddoti in briciole di storia proprio nell'andare a puntualizzare sulla confessione di padre pio un fatto abbastanza interessante e che ci fa riflettere molto perché padre pio si chiede padre eusebio è passato alla storia come un confessore rigoroso molto rigoroso perché appunto con facilità mandava via bruscamente le persone senza soluzione e nello stesso tempo però diventava anche il confessore più ricercato e racconta il confessionale era l'unico mezzo per avvicinare padre pio quindi chiedergli qualche consiglio perciò tutti volevano confessarsi a padre pio così come racconta padre eusebio una folla enorme con un galateo tutto particolare fatto di litigi barruff e parolacce pur di raggiungere lo scopo all'accusa dei peccati e al pentimento delle colpe non ci pensava nessuno questo uno dei motivi principali per cui padre pio mandava via le persone senza soluzione non voleva appunto che il sacramento della confessione fosse profanato con il suo coinvolgimento e allora ebbe un'idea il superiore del convento una cosa veramente strana racconta padre eusebio ma che in un certo senso andò a risolvere il problema 50 o 60 donne che presumibilmente padre pio avrebbe confessato ogni mattina venivano così preparate al modo di confessarsi quindi non cominciare con i quesiti o le domande di cose materiali queste erano riservate alla fine della confessione la precedenza era riservata esclusivamente ai peccati ai peccati mortali al numero alle specie e poi i peccati veniali perché alla fine tutti venivano qui esclusivamente per vedere padre pio e affidarli e raccontarli qualcosa che faceva parte della loro vita ma non confessarsi questi peccati racconta padre eusebio per ottenere la soluzione di padre pio e il perdono di dio supponevano una cosa importante cioè riconoscere di aver sbagliato trasgredendo i comandamenti del signore e quindi pentirsi non tanto per la paura di andare all'inferno ma per aver offeso un padre infinitamente buono che ha mandato gesù a morire per noi dinanzi a queste considerazioni se non si aveva un cuore incaldito dal peccato una certa resibiscenza doveva comunque sbocciare nel cuore allora la soluzione era garantita e si trovava così non padre pio giudice ma un padre con una dolcezza infinita che invitava la conversione quindi al ravvedimento una confessione fatta in questo modo ti autorizzava racconta padre eusebio di chiedere a padre pio tutto quello che volevi ecco questo è il segreto è che cercava anche lo stesso padre eusebio di comunicare a tutti coloro che stavano per confessarsi se non venivano rispettate queste norme peggio ancora se non c'era anche un certo pentimento allora padre pio lo provocava chiudendo lo sportello in faccia così come era accaduto molte molte volte senza troppa grazia racconta anche lo stesso padre eusebio che i sacerdoti e diceva noi sacerdoti ci affanniamo con ragionamenti filosofici teologici a convincere il peccatore e quindi dargli una scossa e molto spesso dopo tanto tempo non otteniamo neanche nulla padre pio invece aveva un effetto immediato con quei metodi tutti i personali non troppo aggraziati scrive padre eusebio da notare però che non ti mandava all'inferno ma aggiungeva va via e torna qui tra un mese il ritorno e la conversione quindi erano sicuri quindi stando così le cose padre pio non era quella persona sgorbutica che tanti hanno definito e tanti hanno scritto su tanti testi e che si vorrebbe così far credere ma era un vero e proprio padre un padre che si preoccupava dei suoi figli figlio mio convertiti sapessi quante quanto sangue mi costi le mamme ad un figlio o una figlia che si ritirano alle ore piccole o al mattino possono dire sapessi quante lacrime quante preghiere mi costi e padre pio poteva gridare quanto sangue mi costi e non era certo un modo di dire ma era proprio quel sangue col sangue delle sue stimmate che egli univa al sangue di gesù proprio per ottenere il perdono dei peccatori grazie a tutti grazie a tutti